buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 1 ottobre 2024 ebbene un tempo si festeggiava oggi san remigio tant'è che quando i bambini iniziavano all'anno scolastico il primo ottobre venivano chiamati remigini ebbene noi oggi invece nell'almanacco del giorno abbiamo trovato un'altra santa un'altra santa molto bella molto dolce molto così riferibile per quanto riguarda la vita che condusse si tratta di santa teresa di lisier visse poco lontano da noi nel diciannovesimo secolo ebbene santa teresa 15 anni vuole entrare nel monastero delle carmelitane era il 9 aprile del 1888 nel 1890 pronunciò i voti prendendo il nome di suor teresa del bambino gesù amò veramente gesù e trascorse la sua vita in ubbidienza preghiera e sacrificio fu una vita breve perché morì appena 24 anni e il 30 settembre del 1897 a bene spiro era di fragile costituzione ed ebbe il presentimento di morire presto già in anticipo è una santa molto dolce santa teresa volle sperimentare il convento da giovanissima e pregò veramente tant'è che i genitori recalcitrarono prima di farla entrare ma poi la vocazione fu così forte che acconsentirono che la loro bambina entrasse in convento questa è santa teresa quindi auguri auguri di cuore a tutti coloro che si chiamano teresa vediamo ora le previsioni del tempo ecco vediamo che il tempo si dovrebbe mantenere stabile anche se assisteremo ad un deciso aumento della copertura nuvolosa lo vediamo soprattutto nella provincia di pesaro urbino le temperature minimi sui 13 gravi le massime sui 24 i venti sulle coste da sud est nell'entroterra da ovest e sud ovest il mare è calmo il sole è sorto alle 7.03 e tramonterà alle 18.50 allora ci ho detto passiamo alla lettura dei giornali e vediamo l'apertura l'apertura che è la stessa su entrambi i quotidiani questa mattina la vediamo prima sul Corriere Adriatico si parla di dengue perché la dengue nonostante le profilassi nonostante i consigli che vengono impartiti comincia a fare continua dicevo a fare sempre più ammalati dengue i casi sono saliti a 102 kit antizzanzare in farmacia così intitola il Corriere vediamo invece il resto del Carlino dengue la febbre dilaga i casi sono 102 però c'è coloro ci sono già coloro che protestano ebbè il comune che fa? chiede una ammalata il comune lo sappiamo che cosa ha fatto ha subito cominciato a fare le disinfestazioni ha dato dei consigli ha alertato l'asta insomma ci sono stati dei provvedimenti ma probabilmente questi ancora non sono stati sufficienti a fermare l'epidemia vediamo un attimo quello che dicono approfondiamo questa notizia per quello che dicono i giornali sono saliti a 102 i casi di dengue accertati e 10 sono i probabili che sono stati registrati fino a ieri nell'area di Fano in più sono in via di verifica altri casi che hanno presentato nei giorni scorsi la stessa simantologia bisogna accertare se si tratta di una influenza normale tra virgolette oppure di casi di dengue da ieri nelle quattro farmacie comunali quella di Gimarra, quella di Sant'Orso, quella di Fano Center e quella della stazione ferroviaria è in distribuzione un kit un kit che l'ASET ha distribuito sono state prese 800 confezioni ne sono state 200 per ogni farmacia appunto l'ASET che ha distribuito alle quattro farmacie del comune che l'ASET stessa gestisce ebbene il kit è formato da 10 larvicidi sono delle pasticche che vengono poi dovrebbero essere messe nelle pozzanghe d'acqua nei sottovasi insomma dove ci sono dei ristagni d'acqua uno spray repellente se per caso uno va a fare delle cose in giardino e sa che lì ci sono delle zanzare in modo da proteggersi e poi una pennetta disinfestante per insomma ledire il prurito il dolore se il dolore non c'è il prurito se qualcuno è stato punto tutto al prezzo calmerato di 15 euro 800 dicevo sono i kit in totale disponibili distribuiti nel numero di 200 per ogni farmacia la situazione continua a essere monitorata costantemente sia dagli organi istituzionali che dal ministero che è dell'istituto superiore di sanità c'è stato poi anche un summit in regione per quello che sta accadendo a Fano ma a Fano ci sono anche le proteste e le vediamo evidenziate proprio sul resto del Carlino c'è chi protesta e chiede perché a marzo e ad aprile non si è fatta prevenzione e perché ora non si prosegue con la disinfestazione a parlare sono due donne fanesi che ad Engel l'hanno avuta l'hanno superata ma insomma sono stati giorni non certo facili con febbre alta e mal di stomaco una signora Miriam Rovinelli è stata malata per 10 giorni mi chiedo perché solo a Fano ha detto ci sia la dengue e come sia possibile che a pochi chilometri di distanza il virus non si sia ancora diffuso sono interrogativi di carattere scientifico che devono avere una risposta ma ovviamente non è la responsabilità delle persone per Miriam comunque qualcosa nella nostra città non ha funzionato adesso ha detto ci propongono il kit che ci salverà tutti commenta eronicamente Monica Zangolini ma quando era il momento la profilassi per la tutela della salute pubblica non si è affatta insomma ci sono questi rigurgiti di protesta per quanto riguarda una situazione che sta cominciando a preoccupare anche i bambini anche i genitori soprattutto anche gli anziani insomma dopo il covid avere anche la dengue insomma non ci risparmiamo nulla e questo la dice lunga su quanto l'internazionalizzazione la globalizzazione ci sta portando anche i suoi malanni e nelle farmacie c'è chi prenota il kit in vendita da domani gli 800 dispositivi antedengue ma non c'è psicosi sono già stati prenotati i kit antedengue ne saranno appunto disponibili 800 in vendita da domani nelle farmacie comunali il riscontro è stato subito positivo confermano alla farmacia di Fano Center abbiamo già avuto diverse prenotazioni quindi da domani il kit dovrebbe essere disponibile tanti ci chiedono se esistono teste da fare a casa come per il covid insomma sapere se per caso uno ha mal di testa dolori reumatici febbre poi anche sintomi tipo raffreddore mal di gola questi si attribuiscono ad una semplice influenza semplice tra virgolette perché anche l'influenza può essere cattiva oppure se si tratta di dengue passiamo alle altre notizie vediamo subito la cronaca sul Corriere Adriatico ce ne sono di diversi episodi condannato per stalking e lesioni all'ex fidanzata si tratta di un egiziano che reagì violentemente nei confronti della sua ragazza che lei lo voleva lasciare la reazione violenta di un 23enne alla fine della relazione lei tronca questa relazione lui inizia a perseguitarla ieri la sentenza davanti al giudice ebbene la reazione di questo immigrato era piuttosto violenta la perseguitava maltrattava anche le persone che lei avvicinava altri giovani e qualche volta li ha presi anche via manesca quindi c'è stata anche una reazione fisica ebbene ieri il giudice ha condannato il giovane egiziano a un anno e cinque mesi l'imputato era difeso dall'avvocato Graziano Bichi e oggi verranno decise le pene sostitutive probabilmente il divieto ovviamente di avvicinare la ragazza ma anche quello magari di lavori sostitutivi sfruttamento all'autolavaggio chiesti sei anni di carcere la pena per il titolare occulto nella requisitoria del PM ebbene si tratta di un caso di un caso che si è verificato a Fano nel luglio del 2021 quando alcuni egiziani furono arrestati per lo sfruttamento della Manodopera questi egiziani gestivano un autolavaggio e furono così accusati di caporalato si tratta dell'autolavaggio i faraoni di Bellocchi ebbene lavare la macchina costava molto meno rispetto agli altri autolavaggi costava 10 euro sia dentro che fuori però i proprietari sfruttavano sfruttavano i loro dipendenti e per questo sono stati appunto chiesti sei anni di carcere e poi vediamo invece una bella iniziativa che ha assunto il Centro Studi Vitruviani sempre attivo per quanto riguarda la tutela del nostro patrimonio archeologico e anche propositivo per la valorizzazione di quello che è la Fano romana e di quello che ancora c'è da scoprire per quello che ancora c'è da mettere in luce realizziamo il gemello digitale delle antiche mura di Augusto ebbene da domani ci saranno nuovi studi per quanto riguarda le mura romane di Fano un patrimonio eccezionale perché poche città hanno una memoria così integra ancora delle antiche mura dell'antico sistema difensivo dei romani comunque verranno utilizzati droni e scanner per realizzare un gemello digitale delle antiche mura romane dall'arco di Augusto fino alla Rocca Malatestiana proprio tutta la circonferenza quasi mezzo chilometro di mura che circondano ancora la città il centro studi Vitruviani ha affidato all'Università Politecnica delle Marche il progetto Murum Dedit ebbene questa è un'iscrizione che la ristrova nell'architrave dell'arco di Augusto nella porta Augustea perché pater patrie Augusto padre della patria diede questo muro a sue spese alla città di Fano ebbene l'iniziativa ieri è stata presentata nella sede del centro studi Vitruviani dal suo presidente Dino Zachilli vediamo qui anche l'assessore alla cultura Lucia Tarsi insieme a due studiosi di particolare rilevanza abbiamo qui il direttore del centro studi direttore scientifico Oscar May e il professor Paolo Clini del Politecnico delle Marche che appunto sovraintenderà a questo studio di carattere digitale l'incarico dato alla Politecnica delle Marche i rilievi dell'arco alla rocca dall'arco alla rocca cominceranno domani dureranno anche due giorni e poi ancora un altro fatto di cronaca a fondo pagina del Corriere Adriatico omicidio fuori della disca un pugile consulente dell'accusa si tratta del buttafuori Clyde Miestrei di Fano sotto accusa per la morte di un pompiere fu un fatto veramente tragico che ebbe luogo in una discoteca si tratta di una discoteca fronte mare il fatto avvenne l'11 giugno del 2023 c'è il processo in atto per insomma vedere come verrà poi andrà a finire la storia di questo pugile passiamo all'entroterra a Fossombrone chiedeva mille euro a telefonino si tratta di una guardia del supercarcere di Fossombrone sono in difficoltà economiche questa è la spinta che ha appunto determinato quest'azione da parte della guardia così si è giustificato il sovrintendente della polizia penitenziaria interrogato in carcere si tratta di Giuseppe Corbo a 54 anni residente ad Acqualagna è stato sorpreso in fragranza di reato in possesso di due smartphone con carica batterie e cuffie auricolari li aveva occultati sotto la sua giacca però insomma appariva un rigonfiamento altri due telefonini con relativi accessori sono stati trovati nella sua abitazione nel corso della perquisizione che è scattata subito dopo l'arresto e c'erano anche duemila euro che vengono ritenuti appunto frutto della cessione di telefonini ad altri detenuti l'arresto è stato convalidato e rimane in cella però non a Fossombrone ma a Pesaro oltre 800 benemerenze Avis a Mondolfo ebbene si è celebrato il 65esimo anniversario della fondazione della sezione intitolata Guido Tonini un medico indimenticabile fanese ha lavorato tantissimo a Mondolfo ebbene quando uno si dedica così intensamente con tanta passione al bene della comodità non viene non viene dimenticato e in suo nome continua la benemerita azione dell'Avis con i suoi donatori che appunto con un'azione di volontariato cedono il sangue a chi è anche in pericolo di vita e quindi è un lavoro è una azione veramente incomiabile vediamo anche la pagina di Senigallia la vediamo qui dove si parla di turismo ma un turismo che ancora non si riesce a quantificare esattamente non abbiamo ancora dati ufficiali ha detto l'assessora Simona Romagnoli s'assessora al turismo non abbiamo ancora dati ufficiali chiedo continuamente report alle associazioni di categoria di riferimento e cerco di analizzare attraverso i maggiori portali che si occupano di prenotazioni di statistiche eccetera ebbene qual è appunto la sensazione di come è andata l'estate a Senigallia e dovrebbe essere andata bene perché poi sono manifestazioni come il Gembori che hanno veramente attirato una marea di gente tant'è insomma che l'esito lo si suppone per Senigallia un'estate da record la consigliera Pagani tanti soldi ma i risultati tutto quanto è ancora da verificare vedremo come poi la regione certificherà come è andata veramente a Senigallia le pagina di Pesaro vediamo saltando le pagine della regione Marche questa mattina passiamo subito a vedere come è andata in provincia perché c'è un risultato particolare per quanto riguarda le elezioni della provincia di Pesaro Urbino abbiamo già detto ieri come c'è stato un caso di assoluta parità sei consiglieri del centro-destra sei consiglieri del centro-sinistra ma che ha fatto l'ago della bilancia è stato il voto del presidente della provincia ex presidente Giuseppe Paolini che ha ovviamente pesato sul centro-sinistra quindi ora si è da 7 a 5 provincia hanno vinto tutti praticamente il centro-sinistra resta in sella ma il centro-destra ha i voti finisce 6 a 6 con il presidente Paolini del partito democratico che diventerà l'ago della bilancia il sindaco Gambini però è stato escluso un escluso eccellente e proprio Urbino diventa un caso vediamo come sono stati i voti i voti per i consiglieri per i sei consiglieri del centro-destra e i sei consiglieri del centro-sinistra vediamo che chi ha avuto più voti è stato Gabriele Giovannini Gabriele Giovannini vice sindaco di Mercatello del Metauro 5.942 voti ponderati ponderati nel senso che dipendono anche come peso dalla capienza dell'importanza del comune stesso un comune piccolo vale meno di un comune grande ecco questo è un po' il senso del conteggio e poi vediamo che Giovannini è seguito dall'assessora di Fossombrone Laura Giombini con 5.880 dal consigliere comunale di Urbino Riano Giovannelli 5.477 dalla consigliera comunale di Pesaro Anna Maria Mattioli 5.427 il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli 5.299 e il sindaco di Mercatino Conca Omar Lavanna 4.039 per il centrodestra invece sono stati eletti il sindaco di Pian di Mileto Nicolò Pierini che ha avuto il massimo dei voti 6.201 ha fatto proprio il top ha avuto più voti di tutti perché il primo del centrosinistra ne ha avuto 5.942 invece Pierini 6.201 e poi Pierini seguito dalla consigliera comunale di Mercatello sul metauro Fernanda Sacchi 5.934 dal sindaco di Fano Luca Serfilippi 5.790 dal sindaco di San Costanzo Domenico Carbone 5.763 dal sindaco di Cartoceto Enrico Rossi 5.378 e dal consigliere comunale di Pesaro Daniele Malandrino 5.060 il nostro risultato un successo lo ha considerato Mirco Carloni che ha sponsorizzato tre consiglieri e rivendica 7.000 voti in più del centro-destra però insomma vediamo anche come il viso un po' sornione del presidente Paolini lo diciamo in modo molto simpatico dice governiamo ancora noi perché siamo i vincitori insomma ognuno si arroga il diritto di essere vincitore ebbene lo sono stati tutti e due insomma vedremo un po' come potrà essere governata la provincia con questa situazione di equilibrio fondi a chi smaltisce l'amianto premieremo i cittadini diligenti lo ha detto il sindaco Andrea Biancani a Pesaro il comune coprirà la metà il 50% delle spese sostenute a chi bonificherà una struttura dell'amianto Montecicardo tra le aree interessate alla bonifica e poi c'è il problema ancora di psichiatria che rimane risolto nell'ospedale di Muraglia sappiamo che questi reparti devono essere trasferiti perché a Muraglia dovrebbero iniziare speriamo che inizino presto i lavori del nuovo ospedale però non c'è solo il problema della nuova allocazione della nuova sede del reparto di salute mentale c'è anche il problema dei medici infatti un solo medico il psichiatra è in servizio pensate abbiamo un solo medico per quanto riguarda la psichiatria e sappiamo come questa malattia sia presente nel nostro territorio e come incida molto come peso sulle famiglie insomma è un problema che deve essere risolto ma ancora rimane in cielo però insomma appare convocata per oggi la conferenza dei sindaci come ci illustra questo articolo a fondo pagina del Corriere Adriatico e qua vediamo il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci e Franca Rossi che è l'assessora alla sanità da Monbaroccio anche i suggerimenti per le prime linee programmate speriamo che questo atto aziendale del direttore dell'AST arrivi al più presto allora proseguiamo la nostra rassegna stampa sul resto del calino ci sono ancora molti molti articoli interessanti la trattoria Nadia spegne i fuochi ha servito alla tradizione per 53 anni ebbene il locale fondato nel 1971 da Daniele Berloni chiude definitivamente i battenti tanta gente sabato scorso sabato domenica domenica scorsa che si è al teatro al teatro della fortuna per la presentazione della Virtus si alza il sipario sulla pallavolo il teatro della fortuna ha ospitato la cerimonia per i 60 anni sabato scorso per la società promossa in A2 Santorelli al via i lavori per portare il Palace a mille posti insomma ci vuole perché altrimenti il campionato non può svolgersi sarà pronto per la seconda in casa di campionato ebbene il Comune interviene e dovrà farlo anche celermente per permettere alla squadra di giocare nel migliore dei modi è stato uno spettacolo con entusiasmo organizzato con entusiasmo c'era entusiasmo in sala c'era entusiasmo sul palcoscenico e per la prima volta il Teatro della Fortuna apre le porte al Bolli ma il Teatro della Fortuna secondo i nuovi amministratori sarà sempre più disponibile per queste simile occasioni cioè convegni organizzati da imprenditori illustrazioni di iniziative anche da parte dei privati non solo teatro non solo musica ma anche appunto iniziative di socialità che verranno fatte nella città di Fano anche il resto del Calino si occupa delle mure auguste in 3D con gli occhiali high-tech ebbene si potranno indossare questi occhiali e vedere le mura come furono costruite ai tempi di Vitruvio e sarà una bella scoperta con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre alle 7 di domani grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per la visione